Manca pochissimo all'inizio dei mondiali e quindi vediamo un'altra maglia di una squadra che sarà sicuramente protagonista. Del Brasile, la prima maglia in versione player, quella indossata dai calciatori. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale per essere aggiornati sulle prossime recensioni. Ci vediamo alla fine! La maglia da calcio Nike Brasile 2022 World Cup abbandona il classico giallo per un giallo brillante, ufficialmente Dynamic Yellow. In termini di design, la maglia Home dei mondiali del Brasile 2022 presenta un piccolo colletto tradizionale colorato di verde e decorato con una striscia blu. Un sottile motivo a jaguaro impresso copre la parte anteriore, posteriore e le maniche, collegando il design a quello della maglia da trasferta della Coppa del mondo del Brasile 2022. I colori della maglia ricordano la maglia vincitrice della Coppa del mondo del 2002. Può essere vista come un tributo per quello che sarà il ventesimo anniversario. Pantaloncini blu e calzettoni bianchi completano la divisa. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100%, ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica. Stupenda! Sarà perché del Brasile, sarà questo colore giallo, questo verde, ma questa maglia secondo me è bellissima e sarà una delle più belle del prossimo mondiale. Nella mia classifica questa prende 5 stelle, si colloca quindi al top. Qui in alto vedete il costo, che per questa maglia, voglio dire, è veramente molto basso. La maglia è fatta benissimo, in tutti i particolari, dei colori brillanti, le patch sono fatte attaccate nella maniera giusta, che dire. E peraltro la spedizione è stata anche molto veloce. Ora vi lascio la parte in cui vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il video. Ci vediamo prossimamente su altre recensioni. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.